Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore a questo punto puoi aspirare a tanto anche lei sua madre quella strega è sempre uguale con gli occhi d'assassina così venale diventerà finalmente un po' cordiale ti sentirai più forte un uomo vero o si parlando della casa da comprare e già e ti premierà offrendosi con slancio l'avrai, l'avrai con slancio e con amore l'avrai ma tu non sai il prezzo che dovrai pagare scappa fuggi e salva qualche cosa in te e non lasciar rifare non diventare un uomo da bruciare l'aria, l'aria che respiravi poco tempo fa ancora il suo profumo di cose vere di cose pure di libertà fuggi e salva qualche cosa in te fuggi e salva qualche cosa in te sopra